Il prossimo brano, Anna Oksa Minghi, ti lascerò. Ecco qui il papa della sposa, è pronto il papa della sposa, lo sposo vicino, la mamma della sposa sta qua. Eeeh, lacrimuccia, qua c'è stata la lacrimuccia, c'è tutta. C'è tutta, c'è tutta l'acrimuccia. E' un grande applauso per il baccarino. Il baccone che tiene i ricordi più belli di te, lauretta. Martino! Dopo, dopo faccio. La voce trema dall'emozione, io sta canzone l'ho fatta per te. E' strumentale. Fa il gesto, è più bello, fa il gesto, fa il gesto, vai. Eri piccola, bello, bello, così, vai, vai. Mavela di più, mavela di più. Bravo, 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 bravo. E se presto diventerà un nonno, ninna, nanna, ricantierò. Vai, adesso il braccio, vai. Strumentale. Perché sta figlia merita un sacco di felicità. C'è la luna che fa capocella e rischiara sto vecchio cortile dove in ansia una bimba gentile che domani si deve sposar. Una cicala sull'arbero muta, si è svegliata l'intera borgata. Tutti sentono la serenata, che papà sta cantando per te. L'acqua del fiume arriva al mare, se la mia voce ti arriva all'estù. Quanto lunga sarà la nottata, quanto grande sarà la tua attesa, fino a quanto domani l'inchiesa. Quanto grande sarà la tua attesa, fino a quando domani l'inchiesa. Alla volta. Allora, allo sposo del fiume, l'acqua, 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 l'acqua. Tu la guardi e devi essere sincera, perché il velo lì la vuole. Questa la fa togliare. Lo sapere di dare, è vero così. Guardatevi a fare una passeggiata, l'acqua, l'acqua, l'acqua. Mi sta andando tanto bene, pure dentro. Bravo! Bravo! L'autocra è di dopo. Questa la non è fa papà. E sei felice, bambina mia, questo è l'agurio che ti fa papà. E sei felice, bambina mia, questo è l'agurio che ti fa papà. Continua. Applausi. 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 Aspetta, aspetta. Se lo volete rivedere su YouTube domani, 8 milioni di visualizzazioni. Meno uno. Domani sta su YouTube sicuro questo? Sì. Come fanno un metodo sicuro? Come fanno un metodo sicuro? Grazie a tutti.